Ciao ragazzi, siamo qua con il mio camera nel filo Francesco Sio, ciao Recep E diciamo, questa prima giornata com'è andata? Aiawiga Aiawiga Why why? Illustra la giornata dei nostri follower Non ci vedo, sì Abbiamo avuto un ritardo grazie alla ritaglia Invece di stare a Chicago, adesso siamo a? New York A New York City Anzi qua le campagne Sì Ma quelle campagne che... Questa è l'America Questa è l'America, New Jersey Nooo Non ti accreditissi in Dio E comunque... Ce la facciamo appena la concidenza questa volta Sono le... 14 e un quarto 14 e 20, abbiamo due ore per arrivare Riconoscimento di baglia... Riconoscimento di baglia, fatto che buono Riconoscimento di baglia, fatto un piede Riconoscimento di baglia, fatto un piede La carta di baglia, fatto un biglietto, la carta di imbarco Tutto trovare la tinta dell'eloporto, a pallarci E poi, dai che trecchi lì chiuso per la valigia Siamo a terra, vediamo un po' l'atterraggio Jeff K Un, due, e tre Po 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 Almeno Jeff che ci rimarrò Un applauso Salutiamo Katia Sempre la numero uno La doccedeva La docce vita